Musica Buonasera a tutti dal Moretti Stadium Iniziamo questo torneo seconda Summer Tech con il capitano del Bayer Federica Marcolini Federica ciao, le tue impressioni sul torneo, sulle altre squadre in gara e come affronterà il Bayer questa competizione? Allora guarda per noi è una novità diciamo, noi veniamo dal calcetto quindi ci proviamo, siamo qua per divertirci e spero che sia una bella serata La squadra è a completo, abbiamo saputo di una defezione dell'ultima ora abbastanza importante, cosa è successo? Abbiamo un bomber che ci ha abbandonato, siamo un po' spuntate, speriamo di riuscire a farcela ugualmente Ok ringraziamo Federica, la mandiamo a riscaldamento che mancano 10 minuti al kickoff, grazie Federica Ciao Ciao Ciao